Citato in giudizio, l'ex sindaco di Casaletto Spartano, Giacomo Scannelli, è accusato del reato di diffamazione aggravata nei confronti del suo ex braccio destro, poi divenuto avversario politico, l'attuale presidente del Consiglio Comunale, Enrico Galatro. I fatti risalgono alla campagna elettorale accesa tenutasi a Casaletto nel 2019. Il contesto è di quelli infuocati legato all'inclinatura dei rapporti tra i due, avvenuta già precedentemente dopo che Galatro, da vice sindaco del Comune nella squadra di Scannelli, sollevò una serie di criticità decidendo di dimettersi, fino poi a candidarsi nella lista avversaria risultata vincitrice. Nel corso di due comizi elettorali, tenutisi il 18 e il 24 maggio, registrati e poi diffusi anche su Facebook, Scannelli accusò apertamente Galatro di conflitto di interessi nell'esecuzione del suo lavoro di amministratore, a causa del suo rapporto con una ditta, e affermò che questo avrebbe comportato una spesa maggiore per le casse comunali. Accuse da sempre rigettate come false da Galatro, che, assistito dall'avvocato Giuseppe Amato, per tutelarsi all'epoca dei fatti querelò l'ex sindaco. Ora il pubblico ministero del Tribunale di Lago Negro, concluse le indagini preliminari, ha disposto la citazione in giudizio di Scannelli. Il processo, nei suoi confronti, inizierà il prossimo 27 gennaio, dinanzi alla sezione penale del Foro Lagonegrese, in composizione monocratica. Presiderà la dottoressa Viterale.